Mi piace questo. È proprio un bel telefono. Allora, cosa abbiamo qui? Grant e Chason. Dalla California. Spero che papino e mammina vi vogliano tanto bene. Perché i vostri culetti fermati promettono grana. Ed è un bene perché mi piace. La grana. Scusa, cazzo hai detto? Hai detto? Vuoi che ti apra il culo in due come ho fatto con il tuo amichetto? Tappati quel cesso! Ok? Quello con i coglioni sono io! Guardami. Guardami dritto negli occhi. Ehi! Stronzo! Guardami negli occhi! Tu sei la puttana. Io qui sono il fottuto re. Non una sola parola. Oh, muori! Cosa c'è, Chason? Chason, dimmi. Perché non ridi come facevi lassù? Dici che non ti diverti più, forse non ti sto simpatico. Vedi, il fatto è, lassù, credevi di avere una chance. Là, tra quelle nuvole di merda, tu pensavi davvero di avere il dito sul grilletto. Ma, hermano, qua giù. Qua giù. Hai il culo per terra? Ok, ora mi dà una calmata, perché tu, moi, e il tuo fratellone, ci divertiremo un sacco mentre aspettiamo i soldi. Non spaventare gli ostaggi, devi occuparti dei rifiuti. Spero che voi due pezzi di stronzi siate più simpatici degli altri. A te. Bye bye. Cazzo, funziona tutte le volte.